Musica Ragazzi mattina prestissimo si parte per cercare di fare un po' d'esca salzando un po' di vento Quindi traineremo con un po' d'onda speriamo di fare esca a sufficienza per riuscire a fare una bella giornata di train Vamos! Ragazzi in questa uscita grazie alla funzione 3D Real Vision di Axiom stiamo cercando delle zone interessanti Vedete dei rialzi sul fondale e come potete anche vedere riusciamo con facilità a spostare il nostro punto di vista rispetto al fondo Come anche ai branchi di foraggio o all'imbarcazione Ragazzi stiamo impiegando il nuovo Axiom abbiamo diviso lo schermo tra cartografico e fish finder Sono delle bellissime marcature stiamo facendo esca probabilmente sugheri qualche lanzardo in mezzo abbiamo fatto qualche calamaro Ora vi faccio vedere con facilità come impiegare la funzione zoom basta spingere più Vedete abbiamo zoomato circa la metà della colonna d'acqua e con facilità la possiamo alzare e abbassare zoomare ancora di più come vedete questa funzione con il nuovo software Lighthouse 3 è veramente semplicissima e rapida da utilizzare Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi delle belle marcature con il nuovo Axiom siamo riusciti a localizzare sia sugherelli qualche calamaro e vediamo un po' di riuscire a fare qualcosa di buono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti una mangianza di tonni, siamo sulla sommità di una secca e lo strumento segna delle palle di coraggio incredibili, forse in mezzo ci sarà anche qualche ricciola, qualche dentice, ora vediamo che succede. A breve mi aspetto qualcosa di incredibile. Come vedete sulla Sonar Chart a sinistra Navionics, stiamo passando sulla parte esterna la caduta di una secca, una zona con varie sommità, rocciose, molto buona per i predatori dove ci sono importanti giochi di corrente dove si catalizza molto pesce foraggio. A destra infatti vediamo sul fishwinder una palla di piccoli pesci probabilmente che attirano nell'aria predatori che stiamo cercando. Su circa 40 metri di profondità, staccato al fondo 6-7 metri, vediamo un bel pesce, poi probabilmente un predatore, vediamo di cosa si tratta, un po' di picciola, un grosso dentico, spieghiamo un po' di piccoli pesci. Ragazzi, una splendida manifestazione a Tago, siamo impostati su un'assegna per aiutare la terra, ragazzi. Ragazzi, splendido compartimento, grandi, ecco il fiume guadiano, vediamo un po' di cosa si tratta. e secondo me che ci sono ben pronto bene, ci vediamo un po'. Eccolo il spazio di pesticione, ragazzi, il finale appena fatto, un bel calamaro. E andiamo! E andiamo! E andiamo! Caro ospite, grandi vangrioli, grandi, 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 Giuseppe! E andiamo! Ragazzi, mentre vi facevo vedere l'altro dentico, è partita la canna a mezz'acqua, innescata con un grosso zucchero, un circo da Ichi, amo singolo, ecco qua. Non so se hai sentito la sprizionata in diretta, è partita come un treno. Sembra un bel pesce. Vediamo un po', sembra un bel pesce, ragazzi. In mezzo c'è una ricciola. Purtroppo c'è una boffa. in mezzo c'è una boffa. E andiamo a tirare via il pesce. Una boffa. Especialmente il pesce colto, ma l'importante. E' un pesce colto... E' un pesce colto. ...ma lo fa! E' un pesce colto importantissimo. Siamo quando hai a quella. Vai nel fenomeno. Che è una canadella che fa l'altro che l'altra canadella ragazzi, se ci sta tirando come un treno lo stiamo portando via dalla cerca, piano piano vediamo un po' riduciamo le nostre tende andiamo ragazzi siamo passati alla 62 a destra vediamo vediamo la stessa dom'è e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.